Sarà secondo te? Io sono malata. In che senso? Problema mio. E se tu continui così finirai male. Però cercate di andare d'accordo con tuo fratello, eh? Non sai che ti vuole bene. Il braccialetto. L'hai perso? Possiamo parlare, per favore? Sei venuta per dirmi che non sei una ladra. Ancora perché sai che ho ragione e vuoi che ti aiuti. Adelaide, come stai bene di farti curare, forse? Sei una ladra. Ma dove cazzo hai messo l'anello della mamma? Ve l'ho presa io.